Iusetta Pecoraro è una delle operatrici che ieri si è recata sul luogo della sparatoria e ha provato a soccorrere Salvatore De Simone, il tuo racconto? Senti, io sono soccorso Salvatore De Simone e per un breve atto di massaggio cardiaco dopo 40 minuti lui non ce l'ha fatta. Quindi siamo molto scorsi dalla perdita di questo tipo di violenza follonica che non ci devono essere più, soprattutto perché noi siamo un paese e una cittadina tranquilla. Grazie.